Il mattino dopo il Ciclope divora altri due compagni di Odisseo, poi esce per far pascolare le greggi e blocca l'ingresso della grotta con l'enorme macigno. Nel frattempo Odisseo escogita un piano, convincerà il Ciclope ad assaggiare il vino che ha portato con sé con l'intenzione di offrirlo come dono ospitale per farlo ubriacare. Una volta che Polifemo si sarà addormentato, Odisseo e i compagni lo accecheranno con un tronco d'olivo dalla punta cumminata e temprata con il fuoco, preparato dall'eroe e dai suoi durante l'assenza del Ciclope. Allora io, standogli accanto, dissi al Ciclope, tenendo con le mani una ciotola di nero vino, su bevi il vino Ciclope dopo aver mangiato la carne umana perché tu sappia che bevanda è questa che la nostra nave serbava. Te l'avevo portato in offerta, semmai impietosito mi mandassi a casa, ma tu sei insopportabilmente furioso, sciagurato. Chi altro dei molti uomini potrebbe venire in futuro da te? Perché non agisci in modo giusto? Il vino che gli era stato dato e gli era stato dato da Ammarone durante una delle sue soste nell'isola, no, nella terra dei Ciconi, di cui avevamo già parlato la volta precedente. Quindi era un vino molto potente, molto forte, che Ulisse vuole dare in dono a Polifemo. In realtà è un piano per farlo addormentare, farlo ubriacare, in modo da poter escogitare un altro piano, quello che porterà poi al ciclope all'accecamento. Dissi così, lui lo prese e lo tracannò. Gioì terribilmente a bere la dolce bevanda e me ne chiese ancora dell'altro. I verbi con cui viene caratterizzato Polifemo sono sempre verbi o aggettivi che definiscono e caratterizzano maggiormente la sua bestialità, no? Tracannare il vino non è un verbo che si usa di solito, di solito si utilizza il verbo non so, bere, assaggiare. Invece tracannare vuol dire che lo beve con foga e allo stesso modo gioì terribilmente, questo avverbio terribilmente vuol dire che la maniera in cui gioisce, in cui è contento di bere il vino è terribile, fa una risata paurosa, no? E sono tutti, spesso vengono utilizzati questi verbi, questi aggettivi, questi verbi per caratterizzare la bestialità di Polifemo. Quindi, dammene ancora da bravo e dimmi il tuo nome, ora subito che ti do un dono ospitale di cui rallegrarti. Certo, la terra che dona le biade produce ciclopi vini di ottimi grappoli e la pioggia di Zeus le lo fa crescere, ma questo è una goccia di ambrosia e di nettare. Quindi a Polifemo piace il vino che Ulisse gli ha donato e che cosa gli dice? Gli chiede il nome, vuole sapere il suo nome, che in cambio gli avrebbe dato per il dono che gli ha fatto, un dono ospitale, un dono che si riserva di solito agli ospiti, di cui Ulisse avrebbe potuto rallegrarsi. Dopodiché ci ricorda che la terra in cui abitano i ciclopi è una terra in cui il vino, se c'è, cresce da uva che non viene coltivata, perché i ciclopi non conoscono l'agricoltura, come si dice all'inizio del testo, no? Che abbiamo letto. I ciclopi sono pastori, quindi se riescono a bere del vino, è del vino che spremono da uva cresciuta spontaneamente. E quindi dice, certo, la terra che dona le biade produce ai ciclopi, le biade sarebbe il frumento, vino di ottimi grappoli ed è la pioggia di Zeus che lo fa crescere. Però questa goccia, questo vino che mi ha dato, è goccia di ambrosia, è nettare. L'ambrosia e il nettare sono i due cibi di cui si nutrono le dèi, l'ambrosia e il nettare, quindi vuol dire che è un vino buonissimo. Disse così, ed io di nuovo li porzi il vino oscuro. Gliene diedi tre volte, tre volte lo traccannò stoltamente. Ricordatevi che il narratore Ulisse, che sta raccontando la storia ad Alcino alla corte dei Feaci, l'avverbio stoltamente, che vuol dire in maniera sciocca, è utilizzato come per anticipare il fatto agli ascoltatori, che Polifema è cascato nella trappola, quindi è stato uno sciocco a bere il vino. Gliel'ha dato per ben tre volte il vino e per ben tre volte lui l'ha traccannato. Ma quando il vino raggiunse il ciclope ai precordi, allora li parlai con dolci parole. Quindi quando il vino arrivò, i precordi sarebbero gli organi che circondano il cuore, quindi vuol dire quando il vino arrivò nell'organismo e iniziò a fare effetto, Ulisse li parlò con dolci parole, epiteto. Ciclope, mi chiedi il nome famoso ed io ti dirò, tu dammi come promesso il dono ospitale. Nessuno è il mio nome, nessuno mi chiamano mia madre e mio padre e tutti gli altri compagni. Dissi così, lui subito mi rispose con cuore spietato, per ultimo io mangerò nessuno, dopo i compagni, gli altri prima. Per te sarà questo il dono ospitale. Disse e arrovesciatosi cadde supino e poi giacque, piegando il grosso collo. Il sonno che tutto doma lo colse. Dalla strozza gli uscì fuori vino e pezzi di carne umana. Ruttava ubriaco. Quindi come riesce a ingannarlo Ulisse? Con questo stratagemma è divenuto famosissimo. Quando Polifemo chiede il nome, lì chiede il nome, Ulisse risponde in questo modo. Gli dice di chiamarsi nessuno. E Polifemo, che pensa di averlo ingannato in questo modo, perché? Perché in realtà gli dice che il dono ospitale che gli ha fatto non è altro che mangiarlo per ultimo. Quindi pensa di averlo ingannato. In realtà vedremo che è lui che è stato ingannato da Ulisse. Dopodiché Polifemo continua a essere caratterizzato per la sua barbarie. Dopo aver bevuto il vino si arrovescia supino, quindi con la pancia rivolta verso l'alto, giacque piegando il grosso collo, e poi si addormenta. Dalla strozza, quindi dalla gola, gli uscì fuori vino e pezzi di carne umana. Ruttava ubriaco. Quindi mentre lì che dorme ubriaco dal vino che ha appena bevuto, gli escono pezzi di carne umana, che è la carne che ha appena mangiato, e rutta. Quindi caratterizzato proprio come un uomo delle caverne quasi, no? E allora io spinsi sotto la gran cenere il palo finché si scaldò. A tutti i compagni feci coraggio perché nessuno si ritraesse atterrito. E appena il palo d'ulivo stava per avvampare nel fuoco, benché fosse verde, era terribilmente rovente, allora lo trassi dal fuoco. I compagni stavano intorno. Un Dio ci ispirò gran coraggio. Quindi è il momento di far scattare il piano che Ulisse aveva scogitato durante l'assenza di Polifemo. Polifemo, prima di questa seconda parte del testo, era uscito nuovamente dalla caverna per andare a far pascolare le greggi. quindi mentre era uscito Ulisse scogita questo piano insieme ai compagni. Avevano preparato questo ramo, anzi questo palo di ulivo. L'ulivo è un legno molto resistente, molto robusto. Le avevano tolto tutti i rami, l'avevano appuntito, l'avevano reso molto affilato e poi avevano messo la punta sul fuoco in modo da renderlo anche rovente. Quindi quando Polifemo poi torna all'interno della caverna, ricordatevi che tutte le volte che lui esce dalla caverna, chiude la caverna con questo macigno gigantesco. Quindi Ulisse doveva scogitare un piano per fare in modo che Polifemo non morisse, perché se fosse morto sarebbero morti di fame anche loro, perché rimanevano rinchiusi nella nella grotta. Avevano bisogno di Polifemo per spostare il macigno che era all'entrata della grotta, motivo per cui appunto non lo uccidono. Quindi allora io spinsi sotto la gran cenere il palo finché si scaldò. Feci coraggio a tutti i compagni perché nessuno si ritraesse atterrito, quindi spaventato, e appena il palo d'ulivo stava per avvampare nel fuoco, benché fosse verde, verde perché era umido, allora lo trassi dal fuoco. I compagni stavano intorno, un dio ci ispirò a gran coraggio, serviva l'aiuto di un dio per compiere l'azione che stavano per compiere, quindi accecare Polifemo di nascosto. Essi, afferrato il palo d'ulivo, aguzzo all'estremità, lo ficcarono dentro il suo occhio. Io, sollevatomi, lo giravo di sopra come quando uno fora un legno di nave col trapano che altri di sotto muovono con una cinghia tenendola dalle due parti e sempre senza sosta essa avanza. Così giravamo nell'occhio il palo infuocato, reggendolo, ed intorno alla punta calda il sangue scorreva. Tutte le palpebre e le sopracciglia li riarse la vampa quando il bulbo bruciò, le radici li sfrigolavano al fuoco. Come quando un fabbro immerge una grande scure o un'ascia nell'acqua fredda con acuto stridio per temperarla, ed è questa la forza del ferro, così sfrigolava il suo occhio attorno al palo d'ulivo. Allora, qui ci sono due similitudini che servono a descrivere con più forza ciò che stanno compiendo Ulisse e i suoi compagni. Quindi essi, i compagni, afferrano il palo d'ulivo a guzzo all'estremità e lo ficcano dentro l'occhio del ciclope. Io, Ulisse, sollevatomi, lo giravo di sopra, quindi Ulisse si alza e solleva e lo gira il palo d'ulivo in alto e come quando, prima similitudine, uno fora un legno di nave col trapano. Quindi sta paragonando l'azione che sta compiendo insieme ai compagni alla costruzione di una nave, come se fossero in un cantiere navale e stanno costruendo una nave di legno e sta paragonando la sua azione a quella che i carpentieri fanno quando trapano un asse di legno. Quindi come quando uno fora un legno di nave col trapano che altri di sotto muovono con una cinghia tenendola dalle due parti. Nei canteri navali le cinghie a cosa servivano? quando si voleva utilizzare un trapano. Chiaramente non esisteva il trapano che conosciamo noi oggi. Quindi legavano il trapano che era un asse di legno con una punta con una cinghia e c'erano delle persone ai lati che tenevano la cinghia e lo tiravano una parte dall'altra per far girare il trapano in modo che potesse andare più in profondità. Allo stesso identico modo i compagni di Ulisse stanno girando il palo d'olivo dentro l'occhio del ciclope che trapano un asse di legno per costruire una nave e utilizzano di solito una cinghia per tenerlo. La cinghia sta verso la parte più bassa, più vicina all'asse che deve essere trapanata, no? E la tirano di qua e di là per far girare meglio il trapano e andare più in profondità. Quindi come quando uno fora un legno di nave col trapano che altri di sotto muovono con una cinghia tenendola dalle due parti e sempre senza sosta essa avanza, quindi penetra più in profondità, così giravamo nell'occhio il palo infuocato, reggendolo ed intorno alla punta calda il sangue scorreva. Quindi intorno alla punta del palo inizia a scorrere il sangue della carne trafitta dal ciclope. Dopodiché la descrizione è ancora più splatter, perché tutte le palpebre e le sopracciglia li rialze, la vampa, quindi il calore del legno, quando il bulbo bruciò. Le radici del bulbo, le radici dell'occhio, li sfrigolarono al fuoco. Sfrigolare è un verbo che di solito si utilizza quando appunto c'è la fiamma, no? Facciamo il barbecue, quando sentite il grasso della carne che scende sulla braccia ardente, si dice che sfrigola ed è lo stesso identico verbo che viene utilizzato in questo contesto. Quindi siccome il palo dell'olivo è rovente, quando li entra nell'occhio la radice dell'occhio sfrigola. Seconda semilitudine, come quando un fabbro immerge una grande scure o un'ascia, che è la stessa cosa, scure o d'ascia sono lo stesso oggetto, nell'acqua fredda con accuso stridio per temprarla, quindi quando il metallo con cui è fatta un'ascia viene immerso nell'acqua dopo essere stato per molto tempo nella fiamma incandescente, sapete no? Quando qualcosa, il metallo è ardente viene messo nell'acqua, cosa succede? Sì, sentite anche lì lo sfrigolio dell'acqua che sale, il vapore che sale in alto, perché il metallo si raffredda improvvisamente, no? Ed è questa la forza del ferro. In realtà il ferro non esisteva ancora, questo è un anacronismo dei copiatori, i copiatori che stavano trascrivendo il poema hanno utilizzato un metallo che loro conoscevano era il ferro, ma ai tempi di Omero e ai tempi di Ulisse il ferro non esisteva, esisteva solo il bronzo, ok? Al tempo dei micenei non esisteva il ferro, quindi è proprio un anacronismo, ce ne sono diversi nel poema. Chi ha trascritto il poema ha inserito questa parola, ferro, perché lui conosceva il metallo del ferro e l'ha inserita qui, ok? In realtà non esisteva ai tempi di Omero. Quindi, come quando un fabbro immerge una grande scuria, così sfrigolava il suo occhio attorno al palo d'ulivo. Lanciò un grande urlo pauroso, rimbombò intorno alla roccia. Noi, atterriti, scappammo. Dall'occhio si svelse il palo, sporco di molto sangue. Lo scagliò con le mani lontano da sé, smaniando. Poi chiamò a gran voce i ciclopi che l'intorno in spelonche abitavano per le cime ventose. Quindi appena il ciclope si sveglia dal dolore e urla, lanciò un grande urlo pauroso che rimbomba in tutta la spelonca, in tutta la grotta. Noi, quindi impauriti dal fatto che il ciclope si fosse svegliato e urlasse in quel modo, scappammo atterriti. Dall'occhio si svelse il palo, quindi si tolse il palo, sporco di molto sangue. Lo scaglia con le mani lontano da sé. Lo vedete tutti questi verbi che servono a caratterizzare le azioni dolorose, come se fosse quasi impossessato da follia il ciclope. Scaglia con le mani lontano da sé il palo, smaniando. Quindi mentre smaniava dal dolore. Poi chiamò a gran voce i ciclopi. Ricordatevi che Polifemo non abita da solo. È nell'isola dei ciclopi dove abitano tanti ciclopi che l'intorno abitavano in grotte, in spelonche, per le cime ventose. Quelli, i ciclopi, udendo il suo grido, arrivarono chi di qua, chi di là e fermatisi presso il suo antro chiedevano cosa lo molestasse. Quindi fermatisi davanti alla sua grotta, gli iniziarono a chiedere che cosa gli desse fastidio, perché lo sentivano smaniare, urlare. Perché, Polifemo, sei così afflitto e hai gridato così nella notte divina e ci fai senza sonno? Forse un mortale porta via le tue greggi e non vuoi? Forse qualcuno ti uccide con l'inganno e con la forza? Chiedono a Polifemo come mai sei così afflitto, come mai ti lamenti così tanto dal dolore e gridi così tanto nella notte e ci fai senza sonno. Quindi il grido addirittura, il grido è così potente di Polifemo che non fa dormire i ciclopi nelle spelonche accanto. Forse un mortale porta via le tue greggi e tu non volevi che lui te lo portasse via, quindi c'è un ladro? E forse qualcuno ti uccide con l'inganno e con la forza? Ad essi il forte Polifemo rispose dall'altro. Nessuno, amici, mi uccide con l'inganno, non con la forza. Ed essi rispondendo dissero alate parole. Se dunque nessuno ti fa violenza e sei solo, non puoi certo evitare il morbo del grande Zeus, allora tu prega tuo padre, Posidone Signore. Quindi i ciclopi non sono entrati dentro la spelonca, sono al di fuori della spelonca che chiedono a Polifemo, e anche loro evidentemente urlando, che cos'è che lo sta affliggendo. E adesso, quando gli chiedono chi è che ti fa del male, Polifemo risponde dando il nome di chi secondo lui lo ha cecato. Quindi è la trappola che Ulisse aveva innescato prima, adesso scatta, funziona. Perché se fossero entrati i ciclopi nella caverna, per Ulisse e i suoi compagni non ci sarebbe stato scampo. Invece, col fatto che Polifemo risponde ai suoi fratelli ciclopi dicendogli che nessuno, amici, mi uccide con l'inganno, non con la forza. Lui sta dicendo che nessuno mi sta uccidendo con l'astuzia, non con la forza. Però i fratelli ciclopi cascano anche loro, non molto svegli, nella trappola e capiscono che nessuno, il gioco di parole, sta compiendo qualcosa. E quindi come rispondono a Polifemo? Se dunque nessuno ti sta facendo violenza e sei da solo, vuol dire che è stato Zeus a inviarti questo morbo, questa malattia di cui ti lamenti. E quindi non puoi lamentarti. L'unica cosa che puoi fare è pregare tuo padre, Poseidone, che ti tolga questo morbo e sperare che il fratello di Zeus te lo tolga. Dicevano così, e rise il mio cuore, perché il nome mio e l'astuzia perfetta l'avevano ingannato. Perché ride il cuore di Ulisse? Eh? Perché la trappola è scattata, quindi ride perché si compiace del fatto che Polifemo è cascato nella trappola. Perché il nome mio e l'astuzia perfetta l'avevano ingannato. Odisseo e i suoi compagni devono uscire dalla grotta. Odisseo lega le bestie di Polifemo a tre e assicura ciascuno dei suoi uomini con una corda sotto il montone collocato al centro. Il ciclope sposta il masso per far uscire le bestie al pascolo e in questo modo Odisseo e i suoi compagni riescono a fuggire. In realtà ancora non è finita l'avventura all'interno della grotta, perché adesso i compagni di Ulisse, insieme a Ulisse, devono riuscire a trovare uno stratagemma per cavarsela, andare e tornare alle navi. E Ulisse ha in mente un nuovo stratagemma, quello di nascondersi sotto le pecore di Polifemo. Polifemo è un pastore, quindi vuole molto bene alle sue pecore e alle sue capre, tanto che le pecore e le capre per continuare a sopravvivere devono continuare a pascolare, quindi loro devono uscire. Polifemo però sa che se fa uscire le pecore deve spostare il macigno e far uscire anche i compagni. Quindi Polifemo si mette all'imbocco della capre, apre il macigno e si mette con la gamba all'uscita in modo da controllare, anche se non vede, chi esce dalla grotta. Quando se ne accorgono, Ulisse decide di utilizzare questo stratagemma, cioè di mettersi sotto le capre che Polifemo comunque controllava, ma controllava soltanto la schiena, non la parte sotto. Ulisse che decide di rischiare per il suo carattere di cui abbiamo già parlato più volte, non si mette dietro una pecora qualsiasi, si mette dietro al montone, il maschio, il maschio alfa diremmo, che è quella a cui Polifemo era più affezionato e il montone sarà l'ultimo ad uscire, quando in realtà di solito era sempre il primo a uscire dalla grotta. Allora, leggiamo perché Polifemo viene caratterizzato anche per un aspetto di cui non ci aspetteremmo da una bestia del genere. Quando mattutina apparve Aurora dalle rose dita, allora egli spinse al pascolo le mandri dei maschi. Le femmine per i recinti non montebelavano, le loro poppe scoppiavano infatti. Tormentato da fieri dolori, il padrone tastava le groppe di tutte le bestie, ferme diritte. Lo sciocco non l'aveva capito che gli uomini erano stretti al petto delle bestie lanose. Quindi quando arriva l'alba, quando mattutina apparve Aurora dalle rose dita, quindi egli spinse al pascolo le mandri dei maschi. Le femmine belavano non monte per i recinti. Le loro poppe scoppiavano, scoppiavano infatti, sono abituate loro le mammelle delle femmine ad essere monte, quindi avevano bisogno di essere monte. Tormentato da fieri grandi dolori, il padrone, Polifemo, tastava le groppe di tutte le bestie, le schiene di tutte le bestie, ferme diritte. Lo sciocco, chi è che lo chiama lo sciocco? In che momento? Lo sta raccontando la corte di Feaci. Lo sciocco non l'aveva capito, che gli uomini erano stretti al petto delle bestie lanose. Ultimo uscì il montone del grege, gravato dalla lana e da me con i miei fitti pensieri. Quindi era molto pesante il montone perché era pieno di lana. E poi era anche gravato da me e dai miei fitti pensieri. Quindi Ulisse viene sempre caratterizzato perché fitti pensieri cosa vuol dire? Pensieri rigogliosi, no? È un uomo che pensava molto. Quindi il montone era gravato, appesantito sia dalla lana del montone che da Ulisse e dai pensieri di Ulisse. E il forte Polifemo palpando lo disse. Caro montone, perché vieni per la spelonca così per ultimo? Prima non sei mai venuto dopo le pecore, ma primissimo correvi a brucare i teneri fiori dell'erba, a gran salti. Per primo raggiungevi il corso dei fiumi, per primo bramavi tornare alle stalle la sera, e ora invece sei ultimo. Forse tu piangi l'occhio del tuo padrone? Lo ha cecato un vigliacco con i suoi vili companni dopo avermi vinto alla mente col vino. Nessuno che penso non è ancora sfuggito alla morte. Ah, se potessi anche tu pensare e parlare per dirmi dove lui fugge dal mio furore. A lui sbattuto qua e là per la grotta si spaccherebbe il cervello per terra e il mio cuore avrebbe sollievo dei mali che questo nessuno da nulla mi diede. Quindi è un discorso quello che fa Polifemo al montone. Non lo diremmo mai che è una bestia del genere, come si è mostrato Polifemo nei confronti di Ulisse e dei suoi compagni, un uomo che mangia altri esseri umani, che non è rispettoso nei confronti della legge dell'ospitalità, che sono leggi divine, quindi che va contro Zeus, un uomo del genere, nutre dei sentimenti così affettuosi nei confronti di un animale, del suo montone, al quale rivolge questa preghiera quasi. Caro montone, perché vieni per la spelonca così, per ultimo? Si sorprende del fatto che il montone sia l'ultimo ad uscire. Prima non sei mai venuto dopo le pecore, ma primissimo correvi a brucare i teneri fiori dell'erba, eri il primo a correre verso i pascoli, a gran salti. Per primo raggiungevi il corso dei fiumi, per primo desideravi tornare alle stalle, quindi tornare indietro, la sera, e ora invece sei l'ultimo. Forse tu piangi l'occhio del tuo padrone? Quindi si dà questa come motivazione, in realtà il montone esce per ultimo perché Ulisse se l'ha tenuto per uscire per ultimo. Forse tu piangi l'occhio del tuo padrone? Lo ha accecato un vigliacco con i suoi vili compagni, è stato un vigliacco ad accecarmi con i suoi vili compagni, dopo avermi vinto la mente col vino, dopo che è riuscito a ubriacarmi. Nessuno che penso non sia ancora sfuggito alla morte. Ah, se potessi anche tu pensare e parlare per dirmi dove lui fugge dal mio furore. Se tu potessi parlare mi potresti dire dove si nasconde nella grotta Ulisse. A lui, sbattuto qua e là per la grotta, si spaccherebbe il cervello per terra e il mio cuore avrebbe sollievo dai mali che questo nessuno da nulla mi diede. Quindi sarei contento di spaccargli la testa sulle rocce di questa grotta se tu potessi dirmi dove si nasconde. Detto così, spinse fuori il montone. Giunti poco lontano dall'antro e dallo steccato, mi staccai dal montone per primo e sciolsi i compagni. Quindi quando furono lontani si staccano dai petti delle pecore, lui dal montone, e spingemmo in fretta le greggi dal passo diritto, pinqui di grasso più volte volgendosi finché arrivamo alla nave. Quindi le greggi di Polifemo non rimangono nell'isola, i compagni di Ulisse e Ulisse se le portano dentro la nave, le rubano proprio. Quindi spingemmo le greggi dal passo diritto, pinqui di grasso, belle floride, più volte volgendosi, più volte si girano finché arrivamo alla nave. Si girano più volte perché hanno paura che Polifemo possa essersi accorto di qualcosa e quindi li stia inseguendo. Al nostro apparire i cari compagni gioirono, perché eravamo sfuggiti alla morte, ma pianzero gli altri. Quindi arrivano alle navi dove li stavano aspettando altri compagni, gli altri compagni che erano rimasti là, che gioiscono nel vedere finalmente arrivare Ulisse e gli altri compagni, e gemono perché alcuni compagni sono morti, quattro, no? Due la prima volta che è entrato, due la seconda volta, quando rientrano quel Pasco. Io non lasciai che piangessero per la morte di questi quattro compagni, coi sopraccigli dissuasi ciascuno, ma ordinai di gettare rapidamente le molte greggi villose dentro la nave e navigare sull'acqua salata. Quindi non aspettai che piangessero troppo i miei compagni e la perdita di questi quattro compagni. Fece in fretta a dire di mettere le pecore dentro la nave e di salpare in fretta. Essi si imbarcarono subito e presero posto agli scalmi e sedendo in fila battevano l'acqua canuta con i remi. Quindi subito si imbarcarono, presero posto agli scalmi, quindi il loro posto dove sono posti i remi, e sedendo in fila battevano l'acqua canuta con i remi. Quindi iniziarono a remare. Canuta vuol dire bianca, l'acqua bianca con i remi. Ma appena distai quanto basta per sentire chi grida, quindi appena con la nave ci allontanammo, non così tanto, ma giusto lo spazio che serve per chi ancora dentro l'isola possa ascoltarmi. E allora con parole taglienti disse al ciclope, ciclope non certo i compagni dell'uomo vigliacco avresti mangiato nella cava spelonca con dura violenza e i misfatti dovevano ricadere proprio su te, sciagurato, che non hai esitato a mangiare degli ospiti nella tua casa. Perciò ti ha punito Zeus e gli altri dei. Quindi, poi il testo chiaramente continua, con un atto che è tipico in realtà di tutti i duelli che si trovano, non so, nell'Iliade. Spesso cosa succede nei duelli che si chiamano, no, le eristie. Quindi i momenti in cui un guerriero lotta con un altro guerriero è scandito da alcuni momenti nei poemi epici di Omero. C'è il momento della vestizione in cui il guerriero indossa l'armatura, c'è il momento in cui avviene il duello, quindi l'uno contro l'altro sfogliano con coraggio le loro armi, eccetera. E poi c'è il momento in cui chi vince si vanta nei confronti di chi ha perso, no? Questo passo, questo incontro non è altro che un duello tra Ulisse e Polifemo, che avviene però non attraverso un combattimento, nel vero senso della parola. Avviene attraverso, più che altro, uno stratagemma che Ulisse compie nei confronti di Polifemo, la furbizia. Ma alla fine Ulisse si vanta di aver vinto contro Polifemo. E questo suo vantarsi le costerà caro, tra l'altro, perché il testo finisce qua. Ma quando continuerà a vantarsi, gli svelerà anche il suo nome. Che cosa gli dirà, infatti? Ve lo dice nell'analisi del testo. Dopo, Ciclope, se qualche uomo mortale ti chiede dello sconcio accecamento dell'occhio, dilli che ad accecarti fu Odisseo, distruttore di rocche, il figlio di Laerte che abita ad Itaca. Quindi Ulisse, nel momento in cui si vanta, ci tiene anche a far sapere il suo nome. E questo li costerà caro, perché? Perché poi Polifemo, una volta saputo il suo nome, gli dirà, ah, io sapevo che mi era stato predetto che sarebbe arrivato qui un uomo di nome Ulisse che mi avrebbe fatto ciò che tu mi hai fatto, che mi avrebbe sconfitto con la furbizia. Mi era stato predetto. Ma perché li costerà caro? Perché a quel punto Polifemo, conoscendo il suo nome, potrà maledirlo. E maledirà non nessuno questa volta, ma maledirà Ulisse. E infatti sappiamo che Polifemo ha un ruolo centrale nello sviluppo del poema. Perché? E infatti non è come gli altri ciclope, è caratterizzato con un nome, ha una sua personalità, ha un suo carattere. Non è solo un ciclope, ha un nome, Polifemo. Perché è centrale nel poema? Perché è lui che pregando Poseidone scatenerà la rabbia di Poseidone che continuerà ad allontanare Ulisse dalla sua isola. Ok? Perché Poseidone risponde alla maledizione, alla preghiera che Polifemo, suo figlio, gli fa e farà in modo di allontanarlo costantemente dall'isola di Itaca. Ricordatevi che fino a questo momento Ulisse, se non era tornato in patria, non era per causa di Poseidone, era per causa di Atena, che ce l'aveva con tutti i greci e che a causa del fatto che durante la guerra di Troia era caduta la statua, no? E durante l'assedio, la sua statua. Quindi è fondamentale questo snodo, questo finale del poema, per due motivi. Un po' perché viene caratterizzata la personalità di Ulisse, che è caratterizzata durante tutto l'episodio, è diventato famosissimo, è raccontato più volte perché Ulisse viene fuori attraverso la sua furbizia, la metis, che in greco vuol dire la furbizia, che vince contro la forza bruta, no? L'intelligenza dell'uomo che sconfigge la forza bruta del selvaggio, del ciclope, attraverso più stratagemmi. E poi perché Ulisse viene caratterizzato anche però per la sua temerarietà, che gli causerà danno. Vantarsi gli causerà tutte le conseguenze che poi le porterà il viaggio, che è ancora molto lungo, ok? Tra l'altro, ultima cosa, ricordatevi che Ulisse ci ha proprio voluto rimanere in quella grotta, nonostante i compagni avessero provato a dirgli, guarda che non è caso di rimanere, scappiamo, prendiamoci il formaggio e andiamo via. Ulisse è curioso, vuole rimanere nella grotta e aspettare di vedere con i suoi occhi chi è il proprietario della grotta e chi è il proprietario delle gregi. E questo causerà la morte dei quattro compagni, ok? Quindi è diventato così famoso questo episodio per più motivi. E poi, un po' perché appunto è l'avventura, no? Anche chiaramente, che c'è dietro a tutto l'episodio. Ma poi perché viene fuori il carattere e la personalità di quest'uomo, Ulisse. Ok.